allora in questo afoso pomeriggio ferragostano annuncio una cosa che avevo già in realtà annunciato a più riprese ma adesso è arrivato il momento di realizzarla ovvero la campagna abbonamenti per il canale velut luna sì l'avevo detto e adesso lo faccio perché oggettivamente comincia ad essermi veramente stretto il fatto di fare due lavori ed essere pagato per uno solo e mi si passi questa mezza battuta l'impegno che richiede questo canale per garantire sempre contenuti interessanti è veramente gravoso le entrate pubblicitarie garantite dai passaggi inseriti automaticamente da youtube si aggirano attorno ai 400 450 euro al mese io ho deciso come ho già spiegato diffusamente in un video apposito di non vendermi alle sponsorizzazioni e quindi resta solo per andare a integrare questo guadagno per cercare di arrivare attorno a quei mille 1200 euro al mese che ritengo siano il compenso adeguato per quanto faccio qui il minimo di compenso adeguato in realtà passatemi anche in questo caso una mezza battuta dicevo l'unica strada è quella degli abbonamenti io ho scelto l'abbonamento di base di 1 euro e 99 lordi perché giustamente youtube si trattiene il 30 per circa per la mediazione che realizza lordi anche a lordo delle tasse perché io poi ovviamente fatturerò e pagherò le tasse su questi introiti il mio obiettivo non è di arricchirmi con questi abbonamenti la premialità tipica di chi si abbona ad un canale è fra virgolette limitata ad avere alcuni video in esclusiva del grosso passato e anche per il futuro e di avere quando andremo un po a regime con due trecento spero abbonati la possibilità di vedere in anteprima i video che poi saranno disponibili per tutti quindi con uno due tre giorni di anticipo vedremo per il momento i video escono subito disponibili per tutti ripeto fino a che non andremo a regime con una quantità adeguata di abbonati quindi il senso di questo abbonamento la domanda che chiunque pensi di abbonarsi si deve porre ovvero perché mi dovrei abbonare è semplicemente per riconoscere a chi realizza questo lavoro in modo tale da garantire video che so essere molto graditi a molti a video che so che molti aspettano e vedono regolarmente sempre per cui questi video vi piacciono li vedete li seguite con attenzione e disponibilità beh datemi questo euro e 99 al mese che credo non vi cambi troppo la vita ma messi tutti insieme può leggermente modestamente moderatamente cambiarla a me che ci lavoro dentro quattro giorni pieni ogni settimana questo è un video extra evidentemente per lanciare appunto la campagna abbonamenti che ripeto attiva infatti già sotto a questo video trovate l'icona che vi consente se lo desiderate di abbonarvi ma ovviamente nel corso dei prossimi incontri spiegherò e ricorderò costantemente di questa nuova opzione anticipo anche che nella giornata di lunedì 19 agosto alle 21 faremo una diretta di circa un'ora tutta un po concentrata sulle tematiche relative alla nostra passione come sempre la solita domande e risposte ma anche su una diffusa spiegazione del perché e del per come di questa nuova campagna abbonamenti inevitabilmente inesorabilmente comunque anche per questo video ora that's all folks iscriviti al canale 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 iscriviti al canale